Le femmine in calore attraggono un gran numero di maschi. La femmina è molto agitata dalla presenza del maschio con una zanna spezzata, ma quest'ultimo non se ne cura affatto. La sua attenzione è stata attratta da un altro maschio. La situazione si è fatta molto tesa. Non si affrontano mai in scontri veri e propri, ma questo sembra un combattimento molto serio. Ciascun maschio ha afferrato l'altro per una zanna, tentando di sollevargli la testa per vibrare il colpo mortale alla gola. Soltanto la femmina sembra turbata dall'accaduto. Il maschio con la zanna rotta si ritira dalla contesa. Il vincitore si lancia all'inseguimento dello sconfitto, guidato dal suo olfatto sensibilissimo. Le cause che hanno scatenato il combattimento non sono molto chiare. Nessuno oserebbe sfidare il maschio dominante, soprattutto quando c'è di mezzo una femmina.